E' aperta fino all'8 novembre al Museo Leone di Vercelli la mostra L'Alba delle Autonomie. L'esposizione, curata e promossa dal Consiglio regionale, presenta al pubblico 11 preziosi volumi originali di statuti medievali introdotti da 10 pannelli esplicativi e da un video che illustrano l'importanza storica delle prime norme regolamentari dei comuni. Per me è un doppio piacere, una doppia soddisfazione. Da un lato che il Consiglio regionale esporti da Torino una mostra che riguarda il Piemonte, la nostra realtà territoriale, la sua storia. Gratificante il fatto che questo avvenga nella mia città, in una realtà che pure storicamente ha dato molto al Piemonte. La mostra è una mostra interessante perché si basa su volumi, cinquecentine in genere, conservate presso la biblioteca regionale. Ovviamente rimandano a un passato più antico che viene brevemente illustrato dalla mostra. Il taglio è accessibile, io spero francamente che sia molto visitata dalle scuole perché è un'utile integrazione su come funzionano i comuni nella storia medievale, qualche notizia anche particolare e inedita.